ANSA, Roma, 3 gennaio sorpasso storico nel 2017 del sistema operativo Android di Google su Windows di Microsoft. Secondo i dati globali di StatCant il primo si attesta al 38.97% contro il 37.07% di quello della casa di Redmond. Al terzo posto CIOS di Apple con il 13.8%. Un primo temporaneo sorpasso di Android su Windows era stato registrato lo scorso aprile. Ora il verdetto annuale è sicuramente influenzato dalla diffusione del sistema operativo del robottino verde sui dispositivi mobili. Android il più usato nel 2017 la classifica di StatCant continua con MacOS. Per poi passare a dispositivi non riconosciuti. Linux e infine, altri. Le statistiche sono elaborate su campioni di oltre 10 miliardi di pagine visitate ogni mese. Per oltre 2 milioni di siti web. Per quanto riguarda l'Italia, nel 2017 Windows ha dominato ancora in modo netto sfiorando la maggioranza assoluta con il 49.5%. Android secondo, ma con quasi la MET. Il 25.05%. Al terzo posto iOS. Al 12.2%. Tallonato da MacOS. Al 10.62%. Al 14. forti 폭ilo. Al 12.70%. A 15.70%. Al 12.8%.